Una disgrazia, Chekhov A sua bottega, E diceva, Così dunque piace a Dio, Al destino non si sfugge. Adesso, ecco, noi facciamo uno spuntino col caviale, e domani, che è, che non è, la prigione, la bisaccia del mendicante, se no anche la morte. Succede di tutto. Prendiamo ora, per esempio, non fosse che Piotr Semyonich. Piotr Semyonich, Parlava e strizzava i suoi occhietti ebri, e gli amici bevevano, mangiavano il caviale e ascoltavano. Descritto il tisonore e l'abbandono di Piotr Semyonich, che ancora il giorno prima era potente e stimato da tutti, Avdeyev continuò con un sospiro. Costancare al gatto le lacrime del topo. Così spetta loro a quegli imbroglioni. Han saputo, figli di cani, rubare, e così adesso ne rispondano. Guarda, Ivan Danilic, che non tocchi anche a te, osservò uno degli amici. A me? Per che cosa? Ma per questo? Quelli han rubato, e la commissione di controllo, che cosa stava a guardare? Credo che anche tu firmassi i rendiconti, eh? Che c'è? Bell'affare, fece un sorrisetto a Avdeyev. Firmavo, mi portavano i rendiconti in bottega. Beh, li firmavo. Forse che ci capisco. Qualunque cosa mi si dica, ci metto sotto una firma. Scrivi in questo momento che ho scannato un uomo. Io firmerò anche quello. Non ho tempo io di esaminare. E poi, senza occhiali, non vedo. Dopo aver chiacchierato un po' del crack bancario e della sorta di Piotr Simeonich, Avdeyev e i suoi amici si avviarono a mangiare il pasticcio di carne da un conoscente, presso il quale si festeggiava quel giorno l'onomastico della moglie. Alla festa tutti gli invitati parlavano soltanto del crack. Avdeyev si scaldava più di tutti e assicurava che egli già da un pezzo aveva presentito quel crack. E fin da due anni prima sapeva che in banca non tutto era pulito. Mentre si mangiava il pasticcio, descrisse una decina di operazioni illegali che gli erano note. Se sapevate. Perché mai non avete fatto denunzia? Gli domandò un ufficiale che era alla festa. Non io solo, ma tutta la città sapeva, sorrise Avdeyev. E poi non sa tempo di andare per i tribunali. Beh, che vadano! Riposatosi dopo aver mangiato il pasticcio, egli pranzò, riposò un'altra volta, poi andò per il Vespro, alla sua chiesa, dove era Fabricere. Dopo il Vespro tornò alla festa per l'onomastico e fino a mezzanotte zocò a preference. A quanto pareva, tutto andava a meraviglia. Quando poi, dopo la mezzanotte, Avdeyev ritornò a casa, la cuoca che gli aprì la porta era pallida e dal tremito non poteva spiaccicare nemmeno una parola. Sua moglie, Elisavieta Trofimova, una vecchia molto ingrassata, floscia, coi grigi capelli sciolti, stava seduta in sala sul divano, tremando in tutto il corpo e, come ubriaca, ruotava gli occhi con aria ebete. Accanto a lei, con un bicchier d'acqua in mano, si dava da fare anche lui, pallido e oltremodo agitato, il suo figlio maggiore, lo studente ginnagiale Vassili. «Che c'è?» domandò Avdeyev e sbirciò irritato la moglie. La sua famiglia spesso stava male per le esalazioni di carbone. «Un momento fa è venuto un giudice istruttore con la polizia», rispose Vassili. «Han perquisito!» Avdeyev guardò intorno a sé. Armadi, cassettoni, tavole, tutto recava le tracce della recente perquisizione. Per un minuto Avdeyev sostò immobile come in catalessi, senza capir nulla. Poi tutte le viscere presero a tremargli e a farsi pesanti. La gamba sinistra gli si aggranchì ed egli, non raggendo al tremito, si coricò bocconi sul divano. Sentiva come gli si rivoltavano le viscere e come la gamba sinistra ribelle picchiava sulla spalliera del divano. Nel corso di forse due o tre minuti rammentò tutto il suo passato, ma non vi trovò nemmeno una colpa che fosse tale da meritare l'attenzione dell'autorità giudiziaria. «Tutte queste sono insulsaggini», disse Alzandosi. «Devono avermi calunniato. Bisognerà domani sporgere querela perché non osino più far queste cose». La mattina del giorno seguente, dopo una notte insonne, Avdeyev, come sempre, si avviò alla sua bottega. I compratori gli recarono la notizia che durante la notte il procuratore aveva spedito in carcere anche il vice direttore e il segretario della banca. Questa notizia non turbò Avdeyev e gli era sicuro che l'avevano calunniato e che, se quel giorno avesse esporto querela, al giudice istruttore sarebbe toccato il fatto suo per la perquisizione del di prima. Verso le dieci corse alla giunta comunale dal segretario, che era l'unica persona estruita di tutta la giunta. «Vatimir Stepanitz, che moda è mai questa?» cominciò a dire acchinandosi all'orecchio del segretario. «Della gente ha rubato. Ma io che c'entro? Per qual motivo?» «Caro uomo», gli bisbigliò, «stanotte ne han fatto una perquisizione. Come è vero Dio? O che sono stati invasi dal demonio? Perché toccar me?» «Perché non bisogna essere un montone?» rispose tranquillamente il segretario. «Prima di firmare. Bisognava guardare. Guardar che? Ma se avessi guardato in quei rendiconti anche un migliaio di volte, non avrei capito nulla. Si capisco un bel niente io. Che contabile sono io? Me li portavano e firmavo. «Permettete. Oltre a ciò anche voi, come tutta la vostra commissione, siete gravemente compromesso. Voi, senza dare alcuna garanzia, avete preso dalla banca 19.000 rubli.» «O signore, sia fatta la tua volontà!» esclamò Avdeyev meravigliato. «Forse che io solo sono debitore. Ma tutta la città è debitrice. Io pago gli interessi e rimborserò il prestito. Che il signore sia con te!» «Inoltre, diciamo, se si ha da ragionare in coscienza, forse che io stesso ho preso quel denaro. Me lo consegnò Piotr Semyonich. «Prendi, dice, prendi. Se non lo prendi, dice, vuol dire che non hai fiducia in noi e che ti tieni alla larga. Tu, dice, prendilo e fai costruire un mulino a tuo padre. E io l'ho presi. Beh, ecco, vedete. Così possono ragionare solo i bambini e i montoni. In ogni caso, signor mio, vi agitate in vano. In processo certo non potrete evitarlo, ma di sicuro vi assolveranno.» L'indifferenza e il tono tranquillo del segretario ebbero su Avdeyev un effetto calmante. Tornato alla sua bottega e trovati là certi amici, berre di nuovo, fece uno spuntino col caviale e filosofeggiò. Aveva ormai quasi dimenticato la perquisizione e lo inquietava una sola circostanza, della quale non poteva non accorgersi. Aveva la gamba sinistra stranamente intormentita e, chissà perché, il suo stomaco non digeriva del tutto bene. La sera di quello stesso giorno il destino sparò contro Avdeyev un altro colpo assordante. In una seduta straordinaria del consiglio comunale, tutti i membri della banca, fra i quali anche Avdeyev, furono esclusi dal novelo dei consiglieri, come quelli che si trovavano sotto processo e sotto inchiesta. In mattinata ricevette una carta, dove lo si invitava a fare immediatamente la consegna del suo ufficio di fabbriciere della chiesa. Dopo di ciò Avdeyev perdette il conto dei colpi che gli sparava contro il destino, e per lui passarono rapidamente, un dopo l'altro, giorni strani e senza precedenti, e ogni giorno lecava con sé qualche nuova inaspettata sorpresa. Tra l'altro, il giudice istruttore gli mandò un avviso. Dopo essere stato dal giudice, tornò a casa indignato, rosso in volto. Mi si è attaccato, come tenendomi il coltello alla gola. Perché hai firmato? Ho firmato, ecco tutto. Forse che l'ho fatto apposta. Mi portavano le carte in bottega, io firmavo. Anche di leggere a dovere l'ho scritto, non son capace. Vennero certi giovanotti dalle facce indifferenti, che posero i sigilli alla bottega e fecero l'inventario di tutti i mobili di casa. L'offesa Avdeyev, sospettando in ciò un intrigo, e come già prima, non sentendosi colpevole di nulla, si mise a correre per i pubblici uffici, lagnandosi. Per ore intere aspettava nelle anticamere, compilava lunghi ricorsi, piangeva, inveiva. In risposta ai suoi lagni, il procuratore e il giudice istruttore gli dicevano con indifferenza e ragionevolmente «Venite quando vi chiameremo, ma adesso non abbiamo tempo». E altri rispondevano «Questo non è affar nostro». Il segretario poi, la persona istruita che, come pareva Avdeyev, avrebbe potuto aiutarlo, si stringeva solo nelle spalle e diceva «Voi stesso avete colpa, non bisogna essere un montone». Il vecchio brigava e la sua gamba era intormentita come prima, e il suo stomaco digeriva sempre peggio. Quando lo stare in ozio l'ebbe stancato e sopraggiunse la miseria, risolse di andare da suo padre al mulino o dal fratello e dedicarsi al commercio delle farine, ma non lo lasciarono uscire di città. La famiglia andò da suo padre ed egli rimase solo. I giorni succedevano rapidi ai giorni. Senza famiglia, senza lavoro e senza denaro, l'ex fabbricere, uomo onorato e stimato, per intere giornate bazzicava le botteghe degli amici, beveva, faceva spuntini e ascoltava consigli. La mattina e la sera, per ammazzare il tempo, andava in chiesa. Guardando per ore intere le icone, non pregava, ma pensava. La sua coscienza era pulita e la propria situazione la spiegava con l'errore e il malinteso. A parer suo, tutto era successo solo perché i giudici istruttori e i funzionari erano giovani e inesperti. Gli sembrava che se qualche vecchio giudice avesse parlato con lui, a cuore aperto e minutamente, tutto sarebbe rientrato nella sua careggiata. Non capiva i suoi giudici e i giudici, così gli pareva, non capivano lui. I giorni fuggivano uno dopo l'altro e, infine, dopo una lunga e estenuante trafila, giunse l'ora del processo. Avdeyev si fece prestare cinquanta rubli, si provvide di spirito per la gamba e di un'erba per lo stomaco e si recò nella città dove si trovava il tribunale. Il processo durò una settimana e mezzo. Per tutto il tempo del giudizio, Avdeyev, con aria grave e dignitosa, come si addice a un uomo onorato che ha sofferto pur essendo innocente, rimase fra i suoi compagni di sventura, ascoltando sempre e senza capire un bel nulla. Era animato da sentimenti ostili. Si arrabbiava perché lo si tratteneva a lungo in tribunale, perché in nessun posto poteva procurarsi dei cibi di magro, perché il difensore non lo capiva e, come a lui sembrava, non diceva quel che era necessario. Mi pareva che i giudici non conducessero il processo come si sarebbe dovuto. Essi non prestavano ad Avdeyev quasi nessuna attenzione. E erano rivolti a lui una volta in tre giorni. E le domande che gli facevano erano di tal natura che Avdeyev, rispondendovi, suscitava ogni volta l'ilarità del pubblico. Quando tentava di parlare delle sue perdite, dei danni patiti e del suo desiderio di reclamare il rimborso delle specie giudiziali, il difensore si voltava indietro e faceva una smorfia incomprensibile. Il pubblico rideva e il presidente dichiarava severo che ciò non aveva rapporto con la causa. Nelle sue ultime parole a discolpa non disse quel che gli aveva insegnato il difensore, ma tutt'altra cosa che suscitò pure il riso. Durante le ore terribili dell'attesa, mentre i giurati deliberavano nella loro camera, rimase a sedere irritato al buffet, senza pensare affatto ai giurati. Non capiva perché deliberassero tanto a lungo se tutto era così chiaro e che cosa volessero da lui. Venutagli fame, chiese al cameriere di dargli qualcosa di magro e a buon mercato. Per quaranta copeche gli diedero non so che pesce freddo con carote. Lo mangiò e subito dopo sentì che quel pesce gli andava su e giù nel ventre come un pesante gomitolo. Gli cominciarono eruttazioni, bruciori, dolore. Mentre poi ascoltava il capo dei giurati che leggeva i quesiti, le viscere gli si rivoltavano, il corpo gli si bagnava di sudor freddo e la sua gamba sinistra era intormentita. Non ascoltava, non capiva nulla e soffriva intollerabilmente perché non poteva ascoltare il capo dei giurati stando seduto o sdraiato. Infine, quando a lui e ai suoi compagni si permise di sedere, si alzò il procuratore del tribunale e disse qualcosa di incomprensibile. Come spuntati da sottoterra, comparvero da chissà dove i gendarmi con le sciabole sguainate e circondarono tutti gli accusati. Adapteyev fu ordinato di alzarsi e camminare. Allora capì che lo avevano giudicato colpevole e preso in custodia. Ma non si spaventò né si meravigliò. Nel suo ventre stava accadendo un tale scompiglio da farlo pensare a ben altro che alla scorta. «Adesso dunque non ci lasciano andare in albergo?» domandò a uno dei suoi compagni. «Ma io ho in camera tre rubli e un quarto intatto di tè!» Passò la notte in una casa privata e tutta la notte sentì repulsione per il pesce e pensò ai tre rubli e al quarto di tè. Di buon mattino, quando il cielo prese a farsi turchino, gli fu ordinato di vestirsi e camminare. Due soldati con le baionette inastate lo condussero in carcere. Mai in altri momenti le vie cittadine gli erano parse così lunghe e interminabili. Non camminava sul marsapiede, ma in mezzo alla via, nella neve sporca che si andava sciogliendo. Le sue viscere continuavano a lottare col pesce e la sua gamba sinistra era intormentita. Le soprascarpe le aveva dimenticate o in tribunale o nella casa privata. I suoi piedi erano intirizziti. Di lì a cinque giorni, tutti gli accusati furono ricondotti in tribunale per ascoltare la lettura della sentenza. Afteyev seppe che lo avevano condannato al domicilio coatto in provincia di Tobolsk. Anche questo non lo spaventò, né lo meravigliò. Chissà perché. Mi pareva che il processo non fosse ancora terminato, che la trafila si prolungasse tuttora e che la vera decisione non fosse ancora venuta. Viveva in carcere e ogni giorno aspettava tale decisione. Solo sei mesi dopo, quando vennero a dirgli addio la moglie e il figlio Vassili, quando nella scarna vecchietta, miseramente vestita, a stento riconobbe la sua Elisaveta Trofimovla, un tempo floscia e grave, e quando, in luogo dell'uniforme ginasiale, vide indosso al figlio una giacca corta e logora e calzoni di cotonina, capì che il suo destino era ormai segnato e che qualunque nuova decisione potesse esserci ancora non gli si sarebbe più restituito il suo passato. E per la prima volta, durante tutto il tempo del processo e della detenzione carceraria scacciò dal viso l'espressione irritata e si mise a piangere amaramente.